A qualcuno, visti in lontananza, potrebbero sembrare delle liane, ma in realtà sono dei fili elettrici. Passano tra una casa e l'altra, sospesi nel vuoto e aggrovigliati tra di loro in bella vista. Ci troviamo in via Giovanni Lombardo e nelle strade limitrofe a Favara, nella zona meglio conosciuta come Narreo Carmino, e questa è la situazione che alcuni cittadini lamentano da diverso tempo. Ciò che li preoccupa è che questi fili alla merce del vento, delle precipitazioni e delle intemperie, possano malauguratamente cedere e provocare non solo disagi, ma anche, si spera di no, danni a persone. In molti casi, inoltre, i cavi appaiono tenuti e ingarbugliati in maniera raffazzonata, in qualche caso, addirittura, sospesi nel vuoto e trattenuti da una corda in tensione. Queste liane, che si aggiungono alla generale condizione di degrado della zona, si trovano sospese e ingarbugliate da più di qualche anno. Gli abitanti del posto assicurano di avere segnalato già da tempo la questione a chi di competenza, constatando però un disinteresse generale. Ci avete chiamato voi abitanti del posto per segnalare un problema legato a cavi elettrici, effettivamente in bella vista. Infatti, sono veramente molto pericolosi. Noi abbiamo qua dei bambini, degli anziani, è una zona al centro storico e ovviamente non è che possiamo vivere così, con queste cose bellissime che ci sono. Noi siamo stufi, paghiamo le tasse, paghiamo i tributi, paghiamo tutto e vogliamo avere anche il servizio. Se per favore fate qualcosa, perché siamo veramente stufi di pagare, se no non paghiamo più niente. Solo per pagare, là si ricordano di noi, poi siamo dimenticati da tutti. E' stato segnalato il problema? Il mio vicino ha detto che l'ha segnalato più volte, nessuno si è interessato. L'anno scorso poi c'erano, sai, un ferro di quelli grandi, pesanti, stava per crollare. È venuto anche il direttore dell'Enel, tutte queste cose qua. Non è che hanno visto come erano i fili, nessuno se ne è interessato. Da segnalare come, tra chi non ha voluto parlare e chi non ha voluto essere ripreso, tra gli inquilini di via Giovanni Lombardo e dell'area limitrofa è stata manifestata anche una delusione sia per chi si disinteressa di mettere in sicurezza il posto, sia per l'amministrazione comunale grillina, che ha l'onore e l'onere anche di rappresentare i propri cittadini, garantendo loro la giusta sicurezza. Ad ogni modo c'è paura. I cittadini hanno paura per il degrado nel quale vivono e per il potenziale pericolo di questi fili elettrici, in alcuni casi penzolanti. Gli enti interessati, sia chi si occupa dell'elettricità, sia chi amministra la cosa pubblica, si attivino per dare concreta risposta alle preoccupazioni degli abitanti del posto. Sentimento di paura, certo, per noi, per i bambini, se c'è un lampo tutto può andare a fuoco. Che dobbiamo dire? Questo. Viviamo nella paura e che devo dire? Non ho più niente da dire perché sono delusa di Favara, ecco. Questo devo dire, soltanto questo. Abbiamo cambiato, cioè abbiamo votato il 5 Stelle per avere il cambiamento, invece vedo che è ancora peggio di prima, solo questo posso dire.